Oggi le nuove corti di anziani sono corti che stanno meglio, che hanno tendenzialmente livelli di istruzione più elevati, condizioni economiche migliori, hanno sperimentato condizioni di vita migliori. Immaginiamo cosa succederà tra qualche anno in cui la generazione dei baby movers diventerà anziana, almeno sotto il profilo anagrafico. Quindi sicuramente una situazione di tendenziale miglioramento della condizione complessiva della terza età. Sempre di più l'autodefinizione di anziano viene percepita come una definizione negativa. Anche tra coloro che hanno 75-80 anni, la maggioranza, circa il 65%, rifiuta per sé questa definizione. E questo secondo me è un segnale che l'anzianità è ancora connotata negativamente dal punto di vista sociale complessivo. Ecco, io credo che sia importante sottolineare questa dimensione soggettiva. Quello che poi ci fa sentire anziani non è né andare in pensione, né fare 70 anni, né eventi culturalmente definiti e delineati. Quello che ci fa sentire anziani è avere un problema di salute serio che non riusciamo ad affrontare. E la nostra capacità di affrontarlo dipende molto dalla condizione sociale, economica, dalla possibilità di servizi, dal luogo in cui viviamo. Io credo che questo è un elemento su cui invece bisogna lavorare, per dare a tutti l'opportunità di vivere veramente una terza età positiva e in salute. Grazie.